Vediamo ora come fare la ricerca avanzata nel TripDatabase. Per fare la ricerca avanzata dobbiamo cliccare su Advanced. Questo tipo di ricerca, disponibile solo per chi come noi ha sottoscritto la versione Pro, è più facile da eseguire per i non esperti, poiché le diverse opzioni di ricerca vengono esplicitate. Basterà scegliere il campo più adatto alla domanda. In più, la ricerca avanzata permette di scegliere se le parole devono essere cercate nel titolo, title only, o nell'intero documento, anywhere in the document. La prima opzione, All of these words, corrisponde alla ricerca base, quindi tutte le parole vengono cercate assieme, come se ci fosse l'operatore AND. L'opzione, Any of these words, corrisponde alla ricerca che facciamo quando mettiamo i vari sinonimi tra l'operatore OR. La terza opzione, This exact phrase, permette di cercare le parole come frase, come quando mettiamo dei termini tra virgolette. Così le parole vengono cercate nell'ordine esatto in cui sono state scritte. Se vogliamo escludere un termine, possiamo usare l'operatore NOT oppure l'opzione Escludi queste parole, excluding words. Le ultime due opzioni permettono di limitare la ricerca a delle annate specifiche. di cercare di cercare di cercare. di cercare di cercare di cercare di cercare di cercare.